Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati all'appuntamento con il FAT. Oggi parliamo di un interessante progetto di cooperazione internazionale tra la nostra regione e in particolare l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio e El Salvador. Su temi molto rilevanti per il nostro presente e per il nostro futuro, che attengono al territorio, che attengono alle scienze della terra, e in particolare alle conoscenze e alle esperienze di ricerca sulla geologia applicata. Ne parliamo con il professor Mario Luigi Rainone, ospite nei nostri studi. Buonasera, professore. Buonasera, direttore. Di ritorno proprio da una missione in El Salvador, che è l'ennesima relativamente a un progetto che trova anche la sua concretezza perché siamo reduci anche dall'inaugurazione di una struttura nata nell'ambito del progetto AICS-Castes, di cui appunto il professor Rainone è il referente per l'Università D'Annunzio. Intanto partiamo da El Salvador e cerchiamo di spiegare anche attraverso delle slide che cosa si sta realizzando. El Salvador è un piccolo paese, forse uno dei più piccoli della regione centroamericana. Nell'area viene chiamato il Pulgarsito del Centro America. Ecco, facciamo vedere anche con la regia. Il Pulgicino, sì, insieme al Belize, che peraltro era una ex colonia britannica, è l'unico paese che non ha il doppio affaccio, affaccia soltanto sull'Oceano Pacifico. È un piccolo paese con una decina di milioni di abitanti, grosso modo come la nostra Emilia Romagna. Però è un paese con un territorio molto fragile, del tutto analogo a quello italiano, ha più di circa 13-14 vulcani attivi, una sismicità molto elevata perché si trova in una zona di giunzione, di collisione tra una piccola placca dell'Oceano Pacifico e ovviamente il continente, è la parte centrale del continente americano. E' sulla strada degli uragani, quindi soffre di alluvioni e esondazioni grandissime, soprattutto in questo momento di cambio climatico. Il progetto che ci vede partecipare insieme all'Università di Palermo, che è alla leadership del progetto, è un progetto molto ambizioso perché è la prima volta che un'università si trova a contribuire alla creazione di un corso di studio. Le relazioni internazionali sono una cosa abbastanza comune in tutte le realtà universitarie. Le attività di cooperazione sono qualcosa di un po' differente. Qui nelle slide che state proiettando vediamo dei momenti, in particolare l'ultimo verificato che è accaduto un paio di settimane fa, che è l'inaugurazione del laboratorio di geoscienze, finanziato appunto dall'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, sede di San Salvador, qui in basso vediamo le massime autorità accademiche, al centro il rettore Quintaniglia, dell'unica università pubblica all'Università di El Salvador, alla destra della fotografia c'è il decano, cioè il preside, e a sinistra è il nostro ambasciatore, neo ambasciatore perché da poco è cambiato il capomissione, Rozo Sordini, che ha appunto partecipato a questo evento. È un progetto che nasce intorno al 2019, che vede purtroppo la pandemia rappresentare un problema, perché cosa vuol dire organizzare un corso di laurea? Vuol dire curare sia tutta l'organizzazione didattica, quella che chiamiamo maglia curricolare, ma formare anche i docenti. E questo è stato un'operazione abbastanza difficile, soprattutto durante il periodo della pandemia. Abbiamo risolto con l'online, anche lì però sono frequenti gli spostamenti e la mobilità. Abbiamo avuto dei docenti del Salvador che sono venuti a conseguire il dottorato da noi. UDA, in poche parole, cura il settore della geologia applicata, perché noi qui in UDA abbiamo un nucleo di geologia applicata che ha una grande esperienza e quindi riesce a trasferire bene il proprio know-how. Quali possono essere i vantaggi per El Salvador, per anche i meccanismi di formazione dei loro geologi? Sono, appunto, vista la particolare conformazione del Paese, indispensabili per poter prevenire e limitare queste situazioni sia telluriche che atmosferiche che coinvolgono quell'area. E quali sono i vantaggi per l'Università, da Gabriele D'Annunzio? Allora, parte di un progetto di cooperazione è qualcosa che, come dire, deve essere anche un motivo d'orgoglio dell'Università, perché è vero, l'Università è nata e svolge le sue attività principalmente di formazione e di ricerca scientifica. I progetti di cooperazione rientrano nella cosiddetta terza missione, cioè nel trasferimento del proprio know-how, di quello che si sa, delle proprie esperienze e delle proprie competenze. Però, per esperienza, avendo lavorato all'estero tantissimi anni, anche prima di entrare nel sistema universitario, quando si va in un altro Paese, prima di insegnare, bisogna imparare. Cioè, è questo quello che fa la differenza tra le relazioni internazionali di un'Università e le attività di cooperazione internazionale, perché si va a operare in Paesi con realtà socio-economiche, soprattutto differenti. quindi ciò che da noi può essere ovvio, ad esempio pensiamo al tema della sostenibilità, che non è un concetto assoluto, ma è un concetto che va declinato nel contesto in cui si trova a operare. E il contesto del Centro America è completamente diverso. Sì, è un contesto diverso. Intanto non pensiamo di trovare un Paese che è a zero, perché la loro classe dirigente molto spesso si laurea negli Stati Uniti, piuttosto che in altri Paesi anche europei. però è tutto il tessuto socio-economico è differente, quindi il ruolo delle università nella cooperazione italiana è quella di assistere, cioè di affiancarli, di condurli piano piano a maturare delle esperienze. Ecco, ma nello specifico cosa avviene nel laboratorio, cosa si studia? Allora, il laboratorio di geoscienze che abbiamo recentemente inaugurato serve soprattutto a formare gli studenti. Quindi abbiamo dotato il laboratorio di strumentazioni che, devo dire la verità, sono così moderne che non abbiamo nemmeno noi nei nostri laboratori. Quindi microscopi soprattutto per formare mineralogisti, la parte mineralogica perografica, la scienza dei materiali. Abbiamo comprato delle strumentazioni, le vediamo qui in basso a sinistra, per le prospezioni, per l'esplorazione del sottosuolo, sismografi da esplorazione, che vuol dire per la gestione delle risorse naturali, per cercare acqua, per cercare minerali. Teniamo anche presente che Salvador ha anche un patrimonio naturalistico fantastico. Abbiamo visto qualcosa, forse, in qualche fotografia. E quindi aiutare, ad esempio, l'Italia, e noi in particolare abbiamo una grande esperienza nella valorizzazione dei beni ambientali. Immagino e penso ai geoparchi. Per quanto riguarda invece l'Università d'Annunzio, chi è impegnato tra lei in questo percorso, sia a livello di personale docente, ma anche di suoi allievi studenti? Dunque, sì, questo mi piace, perché questo progetto ha dato la possibilità a molti nostri studenti di svolgere una tesi in un paese straniero, quindi di seguire, ad esempio, tutta l'approccio alla valutazione della cosiddetta risposta sismica locale, rischio sismico, nella città di San Salvador. La città di San Salvador ha una lunga storia di convivenza con i terremoti o con le esplosioni vulcaniche. La civiltà mayan, 1500 anni fa, subì dei danni notevolissimi dall'eruzione dell'Ilo Pango, che è uno del vulcano grandissimo, qui interno oggi nella caldera c'è un lago bellissimo dove si possono fare anche delle gite molto molto piacevoli. Quindi diciamo che c'è questa possibilità intanto di formare i nostri studenti e in più di accogliere qui studenti e docenti salvadoregni per continuare una formazione in contesti differenti. Quindi in fondo la geologia è un po' come la medicina, più esperienza si fa, più si acquisisce competenza. Ma nella geologia adesso è ancora più importante, proprio alla luce dei cambiamenti climatici, studiare paesi che sono più abituati a condizioni estreme e anche di resilienza da parte della terra. Sì, questo è vero, perché sono abituati a degli estremi climatici molto rilevanti e in questo senso abbiamo anche avviato una collaborazione proprio sul discorso del cambiamento climatico, ma soprattutto di quali sono gli strumenti per mitigare i rischi connessi con i cambiamenti climatici. Io coordino un gruppo di colleghi che sono sempre del settore di geologia applicata, più o meno giovani, però siamo un gruppo che soprattutto ha maturato una grande esperienza, ad esempio nello studio delle frane, nella valutazione del rischio sismico. Noi abbiamo delle competenze ormai consolidate. E nello specifico, per esempio, non è il caso di El Salvatore, suppongo, perché lei parlava appunto degli uragani, ma lo studio per esempio di questi fenomeni legati alla siccità, quanto può essere utile anche rispetto ai nostri comportamenti? Qui parliamo proprio della nostra Europa, di quello che sta accadendo negli ultimi anni con il riscaldamento globale. Il bello della geologia, lo posso dire, ormai dopo 43 anni che ho conseguito un laureo in geologia, che ha una fortissima trasversalità, che che si possa pensare. Perché ad esempio, facciamo un esempio banale, abbiamo sentito parlare tutti negli ultimi mesi dell'aumento del caffè. La tazzina del caffè spiorerà, supererà 1,50 euro. Benissimo. Il Centro America è un grande produttore di caffè. Io ho imparato moltissimo, lavorando dal geologo sul caffè. E la produzione del caffè negli ultimi anni sta diminuendo dal 10 al 15%. Parliamo di caffè di qualità, caffè d'altura, 100% arabica e così via. E da cosa dipende? Dai periodi siccitosi. Il caffè è una pianta molto particolare che vuole anche nel periodo siccitoso un po' di acqua. Se non inizi a avere quest'acqua anche nel periodo siccitoso, lì sono paesi che hanno due stagioni, la stagione umida e la stagione secca, iniziano a soffrire, come soffre anche la pianta del cacao. Allora bisogna insegnarli, come dovremmo imparare anche noi, che quando arriva tanta acqua, la faccio semplice, bisogna imparare a trattenerla, a gestirla, per i periodi siccitosi. E questo ovviamente non riguarda solo il caffè. No, non riguarda solo il caffè, però lì il problema è che le economie di questi paesi sono centrate soprattutto sull'esporto delle filiere agroalimentari. Cioè la geologia deve avere anche uno scopo, indubbiamente, di salvare vite umane, di creare quelle condizioni di sicurezza sul territorio, però può essere anche molto importante per gli aspetti economici. C'è ormai una geologia economica che è abbastanza comune. E quindi può essere anche di supporto, lei dice, nella crisi del comparto agricolo che iniziamo ad avvertire anche dalle nostre latitudini. Noi abbiamo quella che potrebbe sembrare un'anomalia. Il corso di laurea, che chiamiamo in ingegneria geologica, così lo chiamano, è incardinato nella facoltà di agronomia. E quindi abbiamo un rapporto molto diretto con gli agronomi, perché c'è il problema appunto di rabbenamento delle falde, di gestione delle acque superficiali. E come siamo messi, professore? In Salvador, meglio. No, in Italia. In Italia c'è molto da fare, però noi abbiamo già degli strumenti normativi che sono i piani di adattamento climatico. Il problema è che deve entrare un po' nella cultura generale, un po' di tutto, che noi non possiamo combattere il cambiamento climatico. I meccanismi sono troppo grandi. Dobbiamo adattarci al cambiamento climatico e avere più flessibilità nella gestione di questi eventi estremi, che sono sempre più frequenti. E in questo appunto il ruolo del geologo va in una logica di equip affiancata e soprattutto, suppongo, ascoltata da parte del decisore su queste grandi scelte. Voglio dire anche questo, che non è vero che i geologi poi non sono ascoltati e che molto spesso anche i medi associano il geologo alle catastrofi. Alle catastrofi, che arrivano solo dopo per vedere quello che è successo. Però c'è un lavoro anche quotidiano di tanti colleghi, cioè perché le catastrofi non avvengano? E questo ovviamente passa un po' più sotto silenzio. C'è comunque da dire che c'è una crisi delle iscrizioni nei corsi di scienza geologica a livello nazionale. Questo forse è dovuto anche al fatto che sono nati dei nuovi percorsi formativi, che io chiamo seduttivi, che parlano di ambiente ma che poi di fatto non riescono a formare delle competenze adeguate. E per i geologi invece c'è tanto, tanto lavoro? E ce ne sarà sempre più. Infatti i nostri, io, il direttore sa che per nove anni ho gestito il placement, sono stato delegato del rettore per il placement, quindi in uscita, l'orientamento al lavoro in uscita, i nostri geologi non sono mai transitati. Nella piattaforma di matching, perché trovano lavoro subito. Bene. Beh, questa è una informazione molto importante. Grazie professor Reinone. Grazie a voi. E in bocca al lupo al progetto AX Castes tra l'Università Gabriele D'Annuso, l'Università di Palermo, e El Salvador, progetto di cooperazione internazionale di cui abbiamo parlato oggi. Arrivederci. Grazie a voi. Buona serata. Grazie. Grazie.